Ero disperata, quando sono arrivata qui ero proprio stanca, ma tanto stanca, triste, demoralizzata, un po' tutto insieme. Io ho detto vengo qui e vedo, provo e spero che tutto sarà bene, perché ho sentito da una persona, però prima ho visto sul Facebook, un po' mi sono informata, ancora ho guardato un paio di video e dopo ho detto adesso parto sarebbe che mi informo, prenoto il biletto, ho parlato con il mio referente d'Italia e dopo mi sono decisa, anche se avevo tanto, tanto paura, avevo tanto paura, però ero fiduciosa, non lo so, sentivo che dentro di me è qui il posto giusto, diciamo, che qui ce la faccio. E così è cominciata la mia storia, però sai prima ho pianto tanto, che ero proprio disperata. Adesso sono contenta e felice, sì. Dico proprio da mia esperienza che mi sono trovata bene, che siete bravi, accoglienti, devo ringraziare a tutti, veramente. Sono più tranquilla adesso, molto, molto più tranquilla e sorrido, sorrido tanto adesso, prima no perché ero messa male. Adesso sono più fiduciosa a me, ma tanto, non sono più triste o insomma queste cose.